Dal Vangelo secondo Giovanni Rimanete in me e io in voi Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite Così neanche voi se non rimanete in me Io sono la vite, voi i tralci Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto Perché senza di me non potete far nulla Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi Chiedete quello che volete e vi sarà fatto In questo è glorificato il Padre mio Che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli Parola del Signore Buongiorno a tutti Questo Vangelo è uno dei miei preferiti Oggi Gesù ci parla del senso profondo di ogni vita E del fatto che ogni vita è interdipendente l'una dall'altra Usa una similitudine che è bellissima Anzitutto come figura in sé Perché l'immagine della vite che si dipana nei suoi tralci E che nel corso della stagione crea il frutto che giunge a maturazione È fantastica E inoltre è una similitudine che è molto ben comprensibile E dalla quale però possiamo trarre dei significati molto profondi Che vanno oltre quello che può essere Quello diciamo di primo acchito Per così dire Che è quello semplicemente del ramo che Per continuare a vivere deve chiaramente rimanere in contatto col tronco Proviamo a approfondire un po' questa immagine Perché secondo me non è assolutamente casuale Che Gesù utilizzi proprio l'immagine della vite E non di un'altra pianta E non di un'altra cosa Allora Gesù ci dice Io sono il tronco Io sono la pianta E perché voi abbiate vita Dovete rimanere uniti a me Ora pensiamo La vite o qualunque pianta Qual è la sua realizzazione finale La realizzazione finale di ogni pianta È quella di produrre un fiore Che produca un frutto Che a sua volta Protegga e nutra un seme Da quale nascerà nuova vita Quindi Gesù che cosa ci sta dicendo oggi? Che Come i tralci rimangono nella vite Per realizzare se stessi Producendo il frutto Altrimenti la loro stessa esistenza è vana Nell'economia proprio naturale Della pianta e della proliferazione della stessa Così le nostre vite Si realizzano pienamente Se rimangono unite a lui Quindi il concetto di portare frutto Noi non dobbiamo leggerlo Come un qualcosa Che Dobbiamo portare a termine Perché ce lo dice Dio E quindi siamo ancora dietro Con gli obblighi che ci vengono messi addosso Eccetera No? Assolutamente Dobbiamo pensare Che il portare frutto È proprio lo scopo profondo Della nostra vita Che ci realizza Che ci farà veramente sentire pieni Che ci farà davvero sentire vivi E come abbiamo già avuto modo di approfondire In altri giorni Qual è il frutto più prezioso Che dà vita Trasmettendosi da una vita umana Ad un'altra L'amore Questa immagine è bellissima Perché Gesù ci dice Io vi do La mia energia Che è essenza stessa di me Il tronco dà la linfa Ai suoi rami Ai suoi tralci E Gesù Infatti dà il suo sangue A ognuno di noi È un parallelo meraviglioso Gesù offre la sua stessa carne La sua stessa essenza per noi Così come il tronco della vite Dà il nutrimento ai tralci Traendolo con le radici dal terreno Ma spargendolo nei tralci Dando se stesso E Come Gesù Ci dice In me potete portare frutto Ci dice contemporaneamente Che senza di noi Lui non può far nulla Cioè Quale tronco Può portare frutto Se non attraverso i suoi rami Ossia Come può Gesù Portare davvero frutto Attraverso la disponibilità Dei suoi tralci Che siamo noi E anche attraverso Questo è un significato profondissimo Che va in parallelo Col fatto Gesù Col fatto che Gesù ci dice Non vi chiamo più servi ma amici Cioè ci chiede La disponibilità Di essere veicolo Del suo amore Lasciandoci liberi Di scegliere di esserlo E accettando il rischio Di non Poter veicolare Adeguatamente Il suo amore Cioè lui ha scelto noi Come strumento Per portare La gioia nel mondo E Perché Sottolineo La parola gioia Perché Guarda caso Il frutto della vita È l'uva E l'uva È L'elemento Base Sostanziale Per produrre Il vino Il vino Che Gesù Consacrerà Come suo sangue Nell'ultima cena E Anche questo parallelo È bellissimo Ci dice Il Mio sangue Non può Nemmeno esistere Sulla terra Se voi Non vi fate Veicolo Di ciò Che lo può In ultima analisi Formare Cioè Lui crea Questa Compenetrazione Totale Tra se stesso E noi È come se Lui ci Dicesse Se voi Non mi accogliete Io stesso Non posso Esistere È una cosa Che è Meravigliosa Cioè Dio ci chiede Tante volte Di affidarci a lui Ma Questo Vangelo Ci dice Che lui stesso Si abbandona Nelle nostre mani E L'uva produce Il vino E il vino Che cos'è? È gioia Ovviamente È consumato Con la debita Moderazione Il vino Tante volte Acuisce i sensi Aiuta a fare Dei ragionamenti Profondissimi Anche a scendere Dentro di sé Se ci pensiamo Un paio di bicchieri Di vino A volte Davvero Fanno bene Al cuore E Non è un caso Che Gesù Abbia scelto Il vino Come bevanda Per consacrare Il suo sangue Quindi ecco Questo io credo Sia il profondo Significato Dell'immagine Che Gesù Sceglie Per rappresentare L'unione Tra se stesso E noi Quindi Cercando di sintetizzare Lui ci dice Io sono la vita State uniti a me Perché avrete una vita piena E produrrete a vostra volta Vino Cioè Vita E gioia E ricordate questo Stando uniti a me Non solo voi Date vita Intorno a voi E ottenete La vita piena Ma addirittura Date vita Anche a me Pensiamo Che noi Possiamo essere Con le nostre scelte Vita Di Dio Questa è una delle cose Secondo me Più belle E profonde Del Vangelo